buonasera siamo in diretta ciao a tutti sono le 17 e io sono pronta per la quarta puntata di tiglia la talpa coraggiosa come sempre adesso è il momento in cui si deve aspettare l'occhietto anzi se mi avvicino un pochino di più forse cosa dite è meglio allora mi devo raccontare un po di cose marco ciao ciao marco allora aspettiamo due o tre minuti intanto saluto marco e saluto chi ha voglia di scrivere ciao oggi ho qualche cosa da raccontarvi ho una sorpresa alla fine eccolo signor rinaldo buonasera ciao mi fa piacere che tu ci sia ciao allora stanno succedendo delle cose da che ho cominciato a leggere questa fiaba qualcuno è molto geloso ciao fiorenza quando arriva l'autrice ciao io e giorgia ci siamo bene sabrina de bastiani ciao cominciano arrivare un po di persone gioia è presente siamo a posto ciao ilaria siamo già arrivati a 10 tra pochissimo che ore sono sole 17 01 dai aspettiamo aspettiamo un po i ritardatari eccoci paola col trittico paolo e figli se non sbaglio betti ciao nella ceravolo ciao nella wow stasera mi sa che siete tanti è benissimo sono molto contenta allora io direi di cominciare claudia ciao claudia che piacere ciao 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 no rinaldo e per rispetto signore sei giovanissimo raffaella buonasera alessia buonasera ragazzi lo sapete poi io vi voglio salutare tutti ciao lucia io alle presenti bene ragazzi devo cominciare elisa anche una nonna bene bene piccoli grandi medi vanno bene tutti stefania c'è la stefania baffi ciao 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 allora ragazzi cominciamo cominciamo perché vi stavo raccontando che qualcuno da che ho iniziato la fiaba di tiglia è geloso non so se vedete una mancanza se notate una mancanza gigi gigina ha cominciato ieri a fare capricci non si vuole più vestire e comincia a dire anzi comincia ha cominciato ieri a dire che non ci vede più come la talpa allora non c'era verso non c'era verso non ci vedo più non ci vedo più sono diventato mio per come una talpa allora ragazzi ho risolto perché ho trovato un presidio per lui siete pronti ce la fai eccoci qua gli ho messo gli occhiali così adesso ci vede benissimo e può stare qui con noi a leggere la favola sono furba lo so lo so d'altra parte faceva dei capricci che non ti dico e allora alla fine ho deciso di mettergli gli occhiali bene possiamo cominciare allora come al solito faccio un breve riassunto delle puntate precedenti siamo arrivati a un punto che anzi vi leggo nerisio è perplesso forse il disegno del salone vuole dirci che dobbiamo guardare quelle stelle perché sono belle no no io ho capito cosa vale l'antenato ha disegnato le stelle che indicano la strada per tornare alla tana da qui è partito non capite se le seguo potrò tornare dalla mia mamma siamo arrivati qui e allora procediamo quercino dice perché non andiamo contiglia sì dai andiamo dicono gli altri nerisio suggerisce di aspettare l'indomani bisogna avvisare le nostre famiglie della partenza e fare delle belle mangiate per non soffrire la fame il viaggio può essere lungo e faticoso kurt ascolta i loro progetti con attenzione poi interviene non preoccupatevi per il viaggio vi porterò io ormai non posso più tornare al distributore e poi sono stanco di vivere in città in mezzo alla puzza degli automobili evviva bravo kurt rimangono ancora qualche minuto a contemplare le stelle poi il sonno si fa sentire kurt torna all'entrata della tana le talpe scendono e spariscono nella galleria che conduce sottoterra il giorno successivo i piccoli raccontano che cosa vogliono fare ai genitori nella tana c'è fermento e animazione tutti fanno domande si chiedono perché i piccoli vogliono andare via non capiscono che cosa li spinga in fondo in quel giardino stanno bene tra gli adulti nessuno vuole partecipare al viaggio anzi la mamma di nerisio tenta di convincerlo a non andare ma perché vuoi partire con tiglia non stai bene qui con noi mamma tra un po di tempo sarò grande e dovrò affrontare da solo il mondo lo voglio fare con tiglia lo voglio già bene fai come vuoi figliolo non posso fermarti le talpe che devono partire mangiano a sazietà e si riposano per tutto il giorno la partenza è prevista per la sera quando le stelle usciranno e indicheranno la strada al gruppo prima vanno a trovare primoglia la talpa saggia ve la ricordate cari cuccioli ho saputo che volete andarvene da questa tana sicura per correre incontro a un avvenire incerto ebbene non cercherò di convincervi a rinunciare avete coraggio e tutti noi ci siamo salvati tanto tempo fa grazie al coraggio dei nostri antenati che non si sono arresi di fronte alle difficoltà solo con il coraggio è possibile ottenere ciò che si desidera è sera tiglia nerisio e i loro amici sono pronti salutano tutti ed escono dalla galleria all'aperto li accoglie kurt forza in gruppo l'oscurità cala velocemente il cielo è limpido le stelle stanno per apparire ma prima bisogna attraversare in fretta la città piena di pericoli il rumore la puzza preoccupano le piccole talpe i marciapiedi sono affollati di umani grandi e piccoli un bambino fa una carezza a kurt e osserva stupito le talpe che porta in groppa non c'è tempo per fare amicizia alcuni umani tengono legati dei cani tiglia è perplessa come mai kurt ci sono cani come te che non sono liberi di muoversi molti cani fanno compagnia agli umani giocano con i loro piccoli accettano di essere legati in cambio non devono preoccuparsi per il cibo e cercarsi un rifugio perché gli umani danno loro tutto quello che vogliono ci sono cani che come me svolgono il compito di guardiani altri come mio padre e mia madre erano addestrati a guidare gli umani che non vedono adesso capisco perché sei stato così paziente con me quando ti sei accorto che non vedevo niente esclama tiglia il viaggio continua le giovani talpe guardano il cielo scuro attente a scovare per primi le stelle che faranno loro da guida le vede saliceto eccole andiamo kurt si mette a correre nella direzione che li indicano nel buio tiglia fiuta l'aria nella speranza di riconoscere l'odore della tana del popolo dell'erba profumata ma non sente niente di familiare passa del tempo kurt comincia a essere stanco e rallenta ho bisogno di riposare e di mangiare aspettate sotto questo albero ho visto una casa di campagna dove ci sono case ci sono anche cani da guardia magari mi daranno qualcosa da mettere sotto i denti voi avete fame no risponde l'annunzia per tutti dopo le scorpacciate che abbiamo fatto ieri siamo ancora sazi allora vado da solo kurt arriva alla cascina gira intorno alle costruzioni una è la casa dei contadini dalle finestre illuminate vede un uomo una donna e tre bambini che mangiano in cucina vicino alla casa c'è la stalla kurt non si fa sentire e le mucche continuano a masticare tranquille accovacciate sulla paglia sotto una tettoia ci sono le macchine agricole tra esse un vecchio trattore arrugginito con una grande pala dentata a kurt sembra il mostro che nel racconto di tiglia era stato la causa dei guai del popolo dell'erba profumata le pare ormai inservibile non ha nemmeno il motore parola di cane esperto che ha passato anni a guardare fiutare i veicoli degli umani accanto alla tettoia ci sono dei magazzini pieni di grano un'altra costruzione ospita polli tacchini e conigli tutti gli animali dormono nessuno sembra accorgersi della sua presenza kurt non riesce a capire come mai non ci siano cani da guardia improvvisamente da un angolo dell'abitazione dei contadini sbucano quattro grossi gatti kurt si ferma prudente e cane dove stai andando lo sai che qui i cani non possono entrare dice il gatto più robusto un grosso gatto tigrato kurt non risponde si mette a ringhiare mentre i gatti rizzano il pelo del dorso e soffiano con fare minaccioso lo osservano per qualche istante poi con un balzo gli saltano addosso non è facile respingere quattro gatti infuriati ma kurt con qualche morso ben assestato e alcune zampate robuste respinge il primo attacco uno dei gatti scappa miagolando gli altri si allontanano un poco ma poi si riavvicinano e con un movimento fulmineo cercano di graffiargli gli occhi il cane prevede la loro mossa e si sposta di lato così i due gatti si graffiano vicenda stupiti e contrariati anche loro si allontanano nell'oscurità rimane solo il gatto rosso il capo kurt cerca di intimorirlo abbaiando ma il rosso non si fa impressionare e li graffia al muso il cane reagisce e mentre il gatto si ritrae dopo aver colpito gli addenta la coda e comincia a girare su se stesso facendo roteare il gatto in aria poi apre la bocca e il gatto finisce contro il muro no non lo lancio abituato ad averla vinta facilmente il tigrato ne ha abbastanza e fugge attirati dal rumore della lotta e dai versi degli animali i contadini escono di casa i bambini vedono kurt papà papà guarda che bel cane ha cacciato via i gattacci dai teniamolo con noi dai dai teniamolo con noi il padre osserva kurt con attenzione gli si avvicina lo accarezza sulla testa e un bravo cane sarebbe quello che ci vuole per fare la guardia può restare ma prima dobbiamo curare la ferita che ha sul muso la mamma prende kurt per il pelo del collo e lo porta in casa per medicarlo kurt accetta con calma le pennellate di disinfettante e con grande gioia una ciotola piena di carne e pasta finalmente può sfamarsi i bambini giocano con lui mentre mamma e papà parlano tra loro questo bel cane ha dato una lezione ai gatti che hanno sempre fatto scappare i nostri cani potremmo tenerlo come guardiano però chi caccerà i topi dei magazzini del grano dice la mamma possiamo insegnarli a tenerli lontani dice il babbo tutti vanno a dormire e lasciano kurt libero nel cortile della fattoria anche lui ha sonno così dopo aver controllato che dei gatti non ci sia più traccia si addormenta si sveglia di colpo dopo qualche tempo con il pensiero delle piccole talpe come ho potuto dimenticarmi di loro avranno pensato che l'ho abbandonato speriamo che nessuno abbia fatto loro del male si precipita all'albero dove aveva lasciato tiglia nerisio i loro compagni e li trova placidamente addormentati svegliatevi tiglia siamo vicini alla tana del tuo popolo alla fattoria ho visto il trattore che ha distrutto la casa dei tuoi antenati è vecchio arrugginito ormai non fa più paura a nessuno davvero dice tiglia andiamo esclama nerisio tutti si svegliano e si stiracchiano sono pronti a ripartire sorge il sole le stelle che hanno indicato il cammino non si vedono più tutti risalgono sulla groppa di kurt nerisio poco dopo scorge della terra smossa l'indizio sicuro che lì sotto si trova una lontana tiglia riconosce l'odore di casa sono arrivati eccoci siamo arrivati alla fine della penultima puntata domani l'ultima puntata di tiglia la talpa coraggiosa che ho piacere di farvi rivedere vi ricordo che colui che ha disegnato la nostra tiglia guala eccola qui il disegno di carlo lazaretti ma adesso ho un'altra sorpresa per voi l'ultima io sono appassionata di alcune favole che sono di jacopo perego ha raccolto cinque volumi di favole sono 500 favole in un unico librone che è possibile acquistare su amazon ed è anche edito amazon allora io ve ne leggo una mi dite se vi piace e poi vediamo un po se possiamo fare qualche cos'altro intanto cominciamo a leggere l'ultima puntata domani ora saluto tutti ciao alessandra fiorella ciao fiorella paola ciao francesco ciao poi chi è che devo salutare flavio ciao maria giovanna quanti siete ma scrivete dei messaggi non dice non non voglio leggere se lo sta guardando scrivetemi scrivetemi che mi piace tantissimo vedere dopo quello che voi mi dite adriana ciao leo ciao giorgia la ila incredibile ciao ila claudio mattino ma quanti siete che bello allora io vi leggo questa favola che mi fa impazzire si intitola chi va con lo zoppo favola numero 32 a causa del famoso proverbio lo zoppo era sempre da solo nessuno con lui voleva andare perché nessuno voleva imparare a zoppicare un giorno però un maratoneta lo affiancò lo prese per mano e passo dopo passo i due andarono lontano inizialmente lo zoppo zoppicò ma poi dal maratoneta il passo imparò e la sua camminata vistosamente migliorò non c'è niente da fare dopo questa storia il proverbio sicuramente dobbiamo cambiare chi va con lo zoppo non impara a zoppicare chi va con lo zoppo può insegnarli a camminare non è bellissima allora scrivete qua sotto se vi fa piacere che ve ne lega delle altre domani finiamo tiglia la talpa coraggiosa devo capire ve lo dirò domani se potrò farvi una sorpresa ed esserci anche sabato e domenica sempre alle 17 ma ve lo confermo domani intanto state aumentando e mi dispiace perché la favola è finita ma la cosa bella qual è che potete continuare intanto a commentare intanto a guardarla chi non ha visto le puntate precedenti sono sul mio profilo lucia caporetto su facebook e vi ricordo ormai sono diventata brava non mi dimentico nulla vi ricordo il mio canale youtube luci trattino basso legge dove ci sono moltissime storie e anche molti brani di romanzi di autori importanti io vi saluto vi do un abbraccio e ci vediamo domani alle 17 aspetto tutti i vostri commenti mi raccomando è bravi bella grazie mille molto bella grazie mille c'è simo eccola vale ciao vale a proposito dovrò parlare con te a proposito del weekend vi do un bacio grande ciao ciao a tutti